Ben trovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare, ed accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giacquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi non ha bisogno di presentazioni. Lui è Marco Cappelli, esperto di storia, podcaster e autore del libro Per un pugno di barbari. Ciao Marco, grazie per essere qui con noi. Ciao Michele, è veramente un piacere. Prima di iniziare, grazie a tutti coloro che sono già entrati a far parte del nostro nuovo gruppo Telegram, sul quale vi ricordo che è possibile interagire direttamente con me, con Giacomo e con molti dei nostri ospiti e commentare tutti assieme la puntata della settimana. Trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Adesso, però, torniamo all'argomento della puntata di oggi, perché immagino che qualcuno se lo stia già chiedendo. Cosa c'entra la storia con la cronaca nera e con gli argomenti di cui parliamo solitamente su questo podcast? Beh, vi anticipo che c'entra e come, e oggi ve lo dimostreremo parlando di uno dei primi e dei più feroci serial killer documentati nella storia umana. Sto parlando di Gilles de Ré, che molti di voi potrebbero conoscere grazie ad una famosissima fiaba per bambini con il nome di Barba Blu. Ma chi era davvero Gilles de Ré e da dove deriva la sua fama così sanguinaria? Ce lo racconta il nostro Giacomo Giacquinto. Allora, ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce. Io inizio chiedendo scusa ai nostri ascoltatori per la mia voce di oggi, ma gli improvvisi cambi di temperatura che stanno investendo l'Italia in questo periodo mi stanno massacrando. Allora, grazie ovviamente per tutti i numeri, per gli ascolti, per coloro che sono sul gruppo Telegram e interagiscono con noi. Partiamo da questo personaggio, Gilles de Ré, ma innanzitutto partiamo da una premessa, ovvero che molti sanno che le fiabe sono spesso utilizzate come sistema pedagogico per insegnare qualcosa, la famosa morale che si trova al termine delle fiabe. Diverso è il caso quando quelle fiabe sono tratte da storie vere o comunque hanno un significato alla base molto più macabro di quello che noi conosciamo, pensiamo a Cenerentola. Nella fiaba originale addirittura le sorelle si tagliano parti del piede, le dita, per poter far entrare i piedi all'interno della scarpetta tra virgolette incriminata. Oppure c'è un'altra fiaba che è quella di Charperot del 1697, Barba Blu, dove un crudele signorotto uccide brutalmente le proprie moglie e ne nasconde i cadaveri in una stanza segreta della propria magione, del proprio castello. Questa fiaba ha un nome, ha un'origine, un protagonista, appunto Gilles Deret. Chi era questo personaggio? Beh, era innanzitutto un nobile perché proveniva da un casato, i Montmorency Laval, che era una delle famiglie più potenti di Francia, si calcola che fosse probabilmente la seconda famiglia più potente di Francia. A questo si unisce anche l'unione e il fidanzamento con una ricca ereditiera che era Jean Peinel e poi con Beatrice de Rouen, importantissima perché era la nipote del duca Giovanni IV di Bretagna e infatti la figura di Gilles Deret sarà molto legata a questa parte della Francia. Perché? Grazie a quella che è la sua carriera militare. Perché nel 1427 agli ordini di Arturo III di Bretagna, e vi consiglio di andare a spulciare anche un po' la sua biografia perché è un altro personaggio completamente fuori di testa, interessantissimo di quegli anni, grazie a questa affiliazione entra a far parte dell'esercito di Carlo VII di Francia e qui abbiamo uno storico, sicuramente Carlo VII di Francia può essere collegato a un episodio, a una guerra in particolare ovvero quella dei cent'anni. Non solo decise di finanziare il futuro re nelle sue campagne militari entrò nelle grazie del sovrano e come se fosse parte del suo curriculum militare, se avesse avuto un curriculum questo sarebbe stato probabilmente uno dei massimi, una delle massime scritture nella sua lista di cose fatte nella vita perché combatte al fianco di Giovanna d'Arco, a Dorlens, a Jarjoo, a Bigenzi, quindi alcuni dei teatri più importanti dalle guerre di quegli anni. Poi è senza considerare che con Giovanna d'Arco condividerà anche, come possiamo dire, un certo amore, almeno dal punto di vista degli occhi degli altri, verso la stregoneria, ma lo scopriremo adesso. Alla morte del nonno che lo aveva adottato nel 1432 è reddito una fortuna immensa, una fortuna che si basava su proprietà terriere fondamentali allora, soprattutto quando queste proprietà terriere avevano come location principale la Bretagna e soprattutto l'Angio e noi italiani con gli Angio abbiamo una certa dimestichezza. Oltre alle ricchezze familiari che già possedeva è quella della moglie, senza volerlo, si ritrova, non senza volerlo, più che altro senza nemmeno sospettarlo, si ritrovò ad essere uno degli uomini più ricchi del suo tempo. Grazie a questa fortuna, come già detto, finanziò Carlo VII nelle sue campagne con tra l'altro del denaro che non gli venne mai restituito. Terminato il servizio militare decise di sperperare o comunque di spendere abbondantemente il suo denaro, soprattutto da un punto di vista culturale e letterario, perché si circondò di manoscritti molto preziosi e finanziò molti spettacoli teatrali anche di un certo sfarzo. Basti pensare che c'è un aneddoto legato a questa parte della sua vita, quando si trovava a Dorlauns il suo seguito di 200 persone, pensate, occupò tutte le locande della città e spese qualcosa come 80.000 corone d'oro. Ora, senza starvi a fare il cambio, parliamo di cifre astronomiche. Ovviamente, quando spendi così tanto e i tuoi guadagni non rientrano nella giusta gittata, il tuo patrimonio in poco tempo viene lapidato. Motivo per cui la moglie lo abbandonò tra il 434 e il 436. Proprio a causa di questo momento di difficoltà economica si dice che per provare a ritrovare la sua fortuna Gilles de Ré cominciò a interessarsi a qualcosa che forse avrete conosciuto grazie a Nicolas Flamel in Harry Potter, nel primo, la pietra filosofale. Infatti affidò al suo cappellano Blanchet il compito di andarli a cercare i migliori alchimisti che ci fossero in quel momento nel mondo conosciuto. E infatti Blanchet andò a Firenze per incontrare Francesco Prelati, una figura importantissima nella storia italiana, il monaco toscano che è dedito all'occultismo che lo portò con sé nel castello di Tiffage. Proprio questa sua affiliazione al mondo dell'occulto lo portò ad avere una serie di problemi con la Chiesa e si dice che Gilles de Ré fosse da sempre molto polemico nei confronti del clero. Arriviamo così quindi al 15 maggio del 1440 quando rimette mani alle armi e prova a conquistare il castello di Sant'Etienne de Mermorte che lui stesso tra l'altro aveva venduto al tesoriere di Britannia per ripagare alcuni debiti che aveva. A causa di questo tentativo, chiamiamolo di ammutinamento ecclesiastico, violò un contratto, ma non solo, in Franse anche le leggi della Chiesa, entrando in un luogo sacro armato e soprattutto, peggio ancora, prese in ostaggio un canonico, Jean Leferron, che era il fratello del proprietario del castello, che era appunto Gilles Leferron, il tesoriere di Britannia. Tra l'altro lo fece mentre lui stava celebrando una messa e tutta questa serie di accadimenti portarono il vescovo di Nantes, che competeva sul territorio, ad aprire un'indagine contro di lui. Dopo la liberazione di Leferron, nello stesso anno a settembre Gilles Deret fu arrestato insieme ad altri servitori e a suoi amici e il 28 settembre cominciò il suo processo di fronte al vescovo e al vice inquisitore di Nantes. Otto testimoni deposero a suo carico, seguiti poi da altri due, quindi dieci, e tutti lamentavano la stessa cosa, quella che ci porta poi all'ampliamento nei confronti della favola di Barba Blu, ovvero lamentavano la scomparsa di bambini e attribuivano il rapimento di questi a una serva di Gilles Deret, soprannominata la Mefres, il suo vero nome era Perin Martin, in quel momento anche lei in prigione a Nantes. Il 13 ottobre il processo riprese ci furono 49 capi di imputazione. Deret venne accusato di rapimento di numerosi bambini e di averli uccisi nei modi più tremendi, smembrandoli, bruciandoli, offrendoli in sacrificio ai demoni e soprattutto una delle condanne peggiori all'epoca, e Giovanna d'Arco ne sa qualcosa, di aver condotto con prelati delle pratiche stregonesche, quindi l'utilizzo dell'occultismo nella sua vita. Pochi giorni dopo vennero raccolte anche le deposizioni di quelli che venivano considerati suoi complici. Il vescovo e l'inquisitore lo minacciarono di scomunica e gli diedero 48 ore di tempo per preparare una difesa. Il 15 ottobre, alla scadenza delle ore concesse, Gilles Deret, sotto tortura davanti al tribunale, confessò una serie di crimini di un'efferratezza senza precedenti, che alla fine portò alla sentenza del 25 ottobre, ovvero dichiarato colpevole di apostasia e invocazione demoniaca. E venne dichiarato non solo, anche colpevole di sodomia, sacrilegio, violazione dell'immunità ecclesiastica per ciò che aveva commesso con il rapimento del prelato. Il 26 ottobre, insieme a servitori e complici, venne giustiziato mediante impiccagione, prima e poi a rogo, come si utilizzava per tutti i reati commessi di stregoneria, perché secondo il folklore popolare bruciare coloro che praticavano attività occulte serviva per evitare che i demoni potessero scagliarsi contro coloro che li avevano giustiziati. Ricevette l'assoluzione dei peccati, ma siccome faceva parte di una famiglia molto potente, chiese ed ottenne che il suo corpo, dopo l'impiccagione, non venisse arso, ma venisse tumulato nella cappella dei carmelitani di Nance, che era il luogo di sepoltura e ad oggi è ancora presente dei duchi di Bretagna. Ma la vicenda giudiziaria di questo incredibile personaggio non terminò con la semplice esecuzione, perché da una lettera di Carlo VII, che lui aveva finanziato, vi ricordo, si apprende che Gilles de Ré aveva richiesto un appello al Ré e al Parlamento di Parigi, senza che però questo venisse tenuto in conto dai giudici, perché i familiari dei bambini scomparsi e uccisi a detta delle deposizioni volevano vendetta. E così molti dei giudici che parteciparono a quel processo vennero chiamati per comparire davanti al Parlamento. In una seconda lettera invece, in cui venivano anche considerati i Touraine e gli Anjou, vennero chiamati addirittura all'apertura di un'inchiesta sulle circostanze della condanna. Le lettere vennero redatte, ma mai spedite, e ad oggi signora il motivo di tutto questo. Assolutamente, Giacomo, e sappiamo che le testimonianze dei parenti delle vittime sono state di fondamentale importanza alla fine di questo processo, per le sorti anche della risoluzione di questa indagine. Però io adesso tornerei dal nostro ospite Marco Cappelli per fare un passo indietro rispetto a questo excursus, a questa panoramica fatta da Giacomo, per tornare un po' alle origini del personaggio di Gildre e collocarlo nel suo ambiente storico, dato che è quello di cui Marco si occupa, perché abbiamo parlato molto di cavalieri, abbiamo parlato di vescovi, di papi, di inquisizione, e quindi tutto questo ruota attorno all'universo della guerra dei cent'anni. Ed è molto interessante, secondo me, partire dal personaggio di Gildre, che è stato già in tenerissima età, costretto, insomma, a prendersi delle responsabilità da guerriero, da combattente, come tanti altri suoi coetanei all'epoca, però si è trasformato ben presto in un bravo condottiero, ma allo stesso tempo molto sanguinario. Ed è interessante, secondo me, analizzare il rapporto che ebbe con Giovanna d'Arco, di cui, secondo me, Marco ci può parlare più in profondità. Sì, innanzitutto direi una cosa, che la guerra dei cent'anni, figure come Gildre, sono in un certo senso la transizione dell'Europa dal suo passato feudale verso lo stato moderno. Quindi noi, quando inizia la guerra dei cent'anni, abbiamo ancora i cavalieri, i feudatari, alla fine abbiamo gli eserciti e i comandanti di eserciti che sicuramente non sono moderni, però cominciano ad assomigliarci molto di più. Giovanna d'Arco, qui entriamo proprio nel mezzo della guerra dei cent'anni, quindi magari non si capisce il background, però quello che stava succedendo in quegli anni era che, in sostanza, gli inglesi avevano conquistato buona parte della Francia. E quando noi ci immaginiamo, già quando noi diciamo una cosa di questo genere, gli inglesi avevano conquistato buona parte della Francia, noi ci immaginiamo una cosa nazionale, perché noi siamo abituati a pensare al mondo in termini nazionali, quindi c'è l'Inghilterra, c'è la Francia, la Germania, l'Italia, ma il mondo medievale non era così, non aveva confini determinati da lingua bandiera. C'erano i territori che erano di proprietà di un re o di proprietà di un altro re e di proprietà dei suoi vari feudatari. È una complicatissima situazione dinastica per la quale il re di Inghilterra, in sostanza, si riteneva anche il re di Francia. E quello che sarebbe dovuto essere l'erede al trono ufficiale era stato delegittimato, cioè non era più il re delegittimo al trono, il delfino di Francia, e non poteva neanche essere incoronato re perché la cattedrale di Reims, che è la cattedrale dove dovevano essere incoronati i re francesi, era in mano all'alleanza tra inglesi e borgognomi. Quindi Giovanna d'Arco è in sostanza una figura che compare in questo periodo proprio nel nadir delle fortune dei francesi per arrivare a un certo punto nel giro di pochissimo tempo, perché è una vicenda che si dipanna tutta nel giro di pochissimi anni, a ribaltare le sorti della guerra. Ed è una figura stranissima perché è questa ragazza che ha delle visioni mistiche, che le dicono che deve andare lì e deve combattere e sicuramente riuscirà a vincere. Quindi da questo punto di vista è veramente una figura unica nella storia di una contadina che per le sue visioni mistiche riesce a convincere una parte della corte di Francia a sostenerla, addirittura a diventare un leader di uomini e a vincere una battaglia molto importante che è l'assedio di Orléans. Orléans è sempre stata una città molto importante dal punto di vista strategico perché si trova sulla Loira, se voi vedete la Loira sulla mappa della Francia, divide sempre un po' la Francia del nord, che era in mano inglese, dalla Francia centrale, che era in mano francese. E se gli inglesi avessero preso Orléans avrebbero avuto un passaggio facile per andare verso il cuore della Francia. E proprio in questo caso, Marco, mi sembra che Gildrede abbia salvato la vita a Giovanna d'Arco, ponendosi come figura protettrice nei suoi confronti. Quindi lui ha voluto fortemente accompagnarsi alla figura di Giovanna d'Arco e questo secondo me crea un ossimoro, un contrasto molto forte rispetto a quella che era la sua fama precedente, ovvero di condottiero super sanguinario. Come si collegano queste due cose, secondo te, storicamente? Diciamo poi, entrare nella testa delle persone è difficile. Noi siamo moderni e siamo abituati a scontare, a considerare le guerre come decise dalla forza delle armi, degli eserciti, ma non è così che né nell'antichità, né nel medioevo, né anche dopo, la maggior parte delle persone hanno sempre pensato. Cioè il sostegno di Dio è qualcosa di importante. Se ti convinci che Dio davvero parla attraverso questa ragazza, allora diventa logico seguirla, proteggerla, perché attraverso di lei ti stai garantendo il sostegno di Dio, che è molto più importante di 5.000 soldati, in questo senso. Eh, ma io la vedo un po' oggi in termini clinici, sarebbe un po' una psicosi di massa se tutta una nazione si convincesse che, boh, Greta Thunberi parla con Dio, seguiamo tutti Greta Thunberi, ma questo è il successo della storia tantissime volte, nel senso che noi come esseri umani abbiamo sempre questa necessità di avere una conferma da qualcosa di più in alto di noi e diciamo, e questa è anche nella mentalità romana, eh? C'è la stessa cosa. Cioè il sostegno delle potenze ultraterreni, che siano gli dèi o poi il Dio dei cristiani, eh, è la cosa più importante in assoluto, ed è quello che decide la storia, non le, eh, le decisioni degli uomini. Quindi, eh, da questo punto di vista, eh, è tutta una cultura che è imbevuta di questo concetto, che è la, il sostegno di Dio, che è la cosa più importante in assoluto. Eh, tant'è vero che anche nelle, nelle negoziazioni ci si posiziona in modo da garantire che tu sei nel giusto. Eh, non, non è solo la forza a decidere una negoziazione, tu devi essere nel giusto perché così da Dio ti protegge. Quindi è un modo di pensare diverso, ma non è così diverso, eh, cioè ancora oggi, eh, esiste questo modo di pensare, eh, non è che è scomparso, certo è meno, meno rilevante. Sì, secondo me fa parte anche di quelli che erano i valori cavallereschi dell'epoca, e poi, insomma, quando si fa un inquadramento di questo tipo, bisogna tenere presente che all'epoca erano tutti o quasi fortemente credenti. Eh, ce lo insegna anche il professor Barbero, che ha fatto diverse, diverse conferenze sulle crociate, sulla mentalità che ha, che ha un po' di scontri tra, tra religioni, in cui paradossalmente i cristiani erano quelli più estremisti rispetto ai musulmani. Beh, no, assolutamente senza paradossalmente, perché eh, cristianissimo è stato per tantissimo tempo una religione ferocemente monoteistica e ferocemente militante. Eh, quindi questo non c'è, non che l'islam fosse diverso, eh, poi c'è, adesso c'è una, una corrente di, di negazionismo da quel punto di vista. Cioè, quando, eh, dentro tutte le religioni monoteistiche c'è dentro la sottomissione all'autorità divina, eh, e, eh, l'im, e l'im, la suprema importanza dell'autorità divina rispetto a qualunque altra cosa, la suprema importanza della città di Dio rispetto alla città degli uomini, per dirla, eh, come Sant'Agostino, no? Eh, quello che conta non è, eh, Roma è stata saccheggiata, quello che conta è che c'è la città di Dio. Quindi, da questo punto di vista, è una mentalità che attraversa, eh, tutto, eh, attraversa millenni di storia. Esatto. Io adesso però farei un passo indietro e ritornerei, eh, in direzione della, della nostra storia del personaggio di Gilles De Ré, perché abbiamo visto che è una caratteristica dei, dei nobili di quell'epoca, eh, il fatto di identificarsi con, eh, i valori combattenti, eh, era proprio il loro lavoro, il loro mestiere, quello di, di, di combattere le guerre, tanto che venivano educati già in tenerissima età. Sappiamo che Gilles De Ré a 14 anni era già un guerriero, un guerriero bello che è fatto e, eh, una volta, diciamo, finita, eh, finita la guerra o comunque una volta ritiratisi dalla guerra per, per fattori esterni, subivano un po' un effetto che io chiamerei l'effetto Rambo, nel senso che ricollocati nella società civile smettevano di funzionare. Tu che ne pensi di questo, Marco? È possibile, è possibile. Allora, qui abbiamo un'intera classe sociale che fa della guerra la sua unica professione. Eh, le altre classi sociali vivono per sostenerli, eh, e, eh, permettergli di, eh, di condurre la guerra per conto del loro re. Quindi questo è la, eh, è alla fine lo scopo della, della nobiltà medievale, eh, quindi, che, che è molto diversa dal, dal concetto di un esercito professionale. Un esercito professionale è pagato da uno Stato per combattere una guerra e anche lì abbiamo le, diciamo, le conseguenze dopo la guerra per, per i soldati che rientrano. Eh, eh, qui ci sono, c'è un'intera classe sociale che nasce, vive, muore con l'unico scopo di fare la guerra. Non è una scelta che a vent'anni qualcuno prende e dice, ma io vorrei diventare un guerriero. In quanto membro di quella classe sociale devi esserlo. Eh, quindi da questo punto di vista, eh, posso immaginare come, eh, la, eh, questo possa creare nel, come nel caso di, di Gilles De Ré, un, un cortocircuito che porta al, a continuare questo, que, questo sadismo che è sempre la guerra verso le persone inferiori che ti sostengono per, eh, per condurre, eh, la guerra. Però non è che abbiamo, eh, migliaia di casi come Gilles De Ré, quindi lì si entra forse più nel, nel caso clinico personale. Assolutamente Marco, ci entreremo nello specifico insieme al nostro Giacomo tra pochissimo, però, eh, mentre parlavi mi è venuta in mente una famosa scultura che abbiamo qui in Italia che, eh, raffigura Giovanni Lacuto. Eh, il suo vero nome era John Oakwood, che era uno di questi nobili, eh, sbandati direi, che una volta, diciamo, esonerati dai loro obblighi di guerra nel proprio paese di origine, hanno deciso di fondare delle cosiddette compagnie di ventura, insieme ad altri cavalieri, proprio per continuare a fare quello che sapevano fare meglio, e cioè la guerra, soltanto che a soldati da questo o da quell'altro signorotto. Tanto che, eh, succedeva molto spesso nell'Italia, eh, medioevale e rinascimentale, proprio perché, eh, c'era questo universo di stati e staterelli sempre in costante lotta tra di loro, quindi questo è un po' un retaggio del fenomeno di cui parlavamo. Sì, se vuoi dire la storia dei condottieri, eh, perché però siamo proprio così, anche in inglese, condottieri, eh, e delle compagnie mercenarie, eh, e questo è più, mh, direi, e diventa molto più importante in epoca rinascimentale, e che segue quest'epoca di cui stiamo parlando adesso, come si può vedere, eh, Gilles de Ré, stiamo parlando della prima metà del quindicesimo secolo, la Francia e l'Inghilterra sono ancora immerse nel medioevo, l'Italia ha già avuto i primi segni del, del rinascimento sicuramente, ehm, ma, eh, la fine di questo enorme conflitto, eh, che finirà a metà del, del quindicesimo secolo, sicuramente crea, eh, crea una serie di, eh, di persone che si erano, si erano date a, a questo mestiere, che possono continuarlo, e le città italiane tendenzialmente hanno i soldi, ma non hanno molti soldati, quindi diventa, eh, una cosa logica a soldati, per, per professionisti della guerra. Esatto, e secondo me la cosa interessante è che questi nobili non è che facevano i condottieri, erano dei condottieri, erano dei combattenti, quindi, anche volendo, difficilmente avrebbero potuto fare altro nella loro vita, e qui ci ricolleghiamo con il caso specifico di Gilles de Ré, che era nato per fare quello, tutta la sua educazione, la sua crescita, era stata incentrata su quella, su quello, e quindi quando, nel momento in cui lui fu, eh, richiamato nelle sue terre, eh, a causa della, della morte di questo zio che lo aveva allevato, dopo che a undici anni Gilles aveva visto il padre, eh, completamente dilaniato da un cinghiale inferocito, per essere stata una scena abbastanza torculenta. O una scena da Robert Barateon, insomma. Eh, sì, eh, per, per gli amanti di, di Game of Thrones. E quindi, richiamato, insomma, ai suoi doveri, alle sue responsabilità di gestore, eh, di un feudo, lui ha perso completamente, eh, nel corso degli anni, si intende, il lume della ragione, ha iniziato a sperperare gran parte, eh, della sua ricchezza in, eh, prima in, eh, teatri, in, in teatro, in, eh, plays, mi verrebbe da dire in inglese, in recitazioni, ricostruzioni teatrali di quelle che erano, che erano state le sue gesta da cavaliere. Quindi lui ha continuato a vivere in questa dimensione post-traumatica e non, non è mai uscito, perché poi, ecco, eh, l'esoterismo di cui parlava Giacomo prima, che magari più tardi andremo ad approfondire, deriva dal fatto che lui stesse, c'era un po' di cercando disperatamente di, eh, ricostruire quella, quella ricchezza originaria della sua famiglia. Anche perché sappiamo che gestire diversi castelli e diversi servitori, insomma, eh, necessita anche di una certa liquidità, no Marco? Sì, ma direi anche una cosa, che è tutta la sua classe sociale, che adesso io qui ho detto una cosa sulla sua, sulla classe sociale dei nobili, eh, fatti per la guerra, ma in cento anni della guerra dei cent'anni, che in realtà è durata più di cento anni, eh, questo ruolo è cambiato, perché all'inizio della guerra dei cent'anni abbiamo veramente il tipico, i classici eserciti medievali con i cavalieri, quindi, eh, i, diciamo, il nonno di Gilderre sarebbe stato, o il suo padre sarebbe stato un cavaliere, eh, armato di armatura sul campo di battaglia, che poi viene massacrato dagli inglesi, eh, da, da, da contadini inglesi con l'arco. Eh, alla fine della guerra dei cent'anni abbiamo già, eh, i cannoni, abbiamo degli eserciti dove la, quello che conta è sempre di più avere, eh, professionisti, ma avere anche, eh, i numeri di fanteria. Quindi è cambiato proprio il modo di combattere la guerra. Si è passato dall'esercito medievale, in cui contava solamente essere nobile, avere l'armatura e il cavallo, a un esercito che è quello, che assomiglia a quello rinascimentale in cui hai i professionisti della guerra. Quindi posso immaginare come questo abbia comunque causato una perdita di, di, del senso di, come dire, della, della propria importanza come classe sociale, della propria importanza anche personale, eh, da questo punto di vista. Quindi continuare a vivere, eh, eh, diciamo, per, per continuare a essere importanti in guerra, eh, la classe sociale di Cidere ha dovuto adattarsi a diventare dei condottieri e allo stesso tempo, eh, una volta terminato, eh, il, la loro parte attiva, non, non erano più, non avevano più quella vita da cavaliere che avrebbero avuto i loro nonni, i loro genitori. erano adesso dei semplici, eh, proprietari terrieri. E questo... Molto interessante questo, Marco. Permettimi di farti, eh, una domanda di riflessione. Tu hai parlato prima, eh, di mondo romano, eh, collegandolo, diciamo, a questa quasi superstizione, questa convinzione che, eh, non ci fosse, insomma, un'entità più grande a decidere il destino degli uomini e delle loro battaglie. Eh, secondo me si ricollega in qualche modo anche a questa forte cristianità che viveva nella Francia rinascimentale, perché è come se queste due componenti unite insieme rendessero la gente molto propensa anche a una sorta di misticismo, di esoterismo, che abbiamo visto non soltanto nella figura di Childre, che appunto si era affidato a diversi alchimisti, a diversi preti sconsacrati, che erano tutti, tra l'altro, truffatori, per appunto evocare dei demoni che lo aiutassero attraverso dei sacrifici umani, a quanto pare, a recuperare la sua ricchezza, non si sa come. Ma lo ritroviamo anche in personaggi sempre del mondo francese, ma più avanti, nei secoli, come mi viene da pensare nel 1700, eh, un delfino di Francia, eh, che appunto si è, era un ateo, eh, conclamato e che però si affidava a tutto questo mondo di truffatori, di mistici, per appunto rimpinguare le casse di una Francia che anche lì si trovava sull'orlo, insomma, del default, che poi appunto ha portato anche quella che è stata la rivoluzione francese. Sì, allora, sull'esoterismo secondo me predata e segue anche il cristianesimo in questo senso, non è, direi che non è collegato, l'esoterismo è come dire una costante dell'essere umano che non può accettare che il mondo sia semplice e deve sempre cercare di complicarlo e questo c'è prima del cristianesimo e c'è anche nelle nostre società, eh, molto laicizzate. Quindi direi che a mio avviso, di nuovo, questa non è una, non è, non c'è una verità storica su questo, eh, ma è solo per dire che a mio avviso non è legata di per sé alla religiosità medievale, ma è legata alla nostra creduloneria che c'è sempre, ed è una costante umana dall'alba della storia fino ad oggi. Ma infatti secondo me c'è un contrasto proprio tra questo mondo di superstizione e quello che dovrebbe essere o sarebbe dovuto essere la svolta portata dal cristianesimo, perché diciamo che di svolte di questo tipo il cristianesimo ne ha portate. Il cristianesimo è un grande nemico, diciamo sempre stato nemico dell'esoterismo perché è visto come un residuo pagano. Esatto, esatto, infatti sappiamo, è sempre qui il professor Barbero ci aiuta, tra l'altro tu l'hai intervistato il professor Barbero, quindi parliamo di cose che conosciamo. Lui ci racconta come nei primi secoli del Medioevo, in quello che si può definire l'Alto Medioevo, erano gli stessi esponenti della Chiesa a rassicurare insomma il popolo minuto ai contadini, eccetera, dicendo insomma che la stregoneria non esiste, che è la superstizione, è meglio evitarla. Invece c'è stata proprio a partire dalla fine del Quattrocento, ma anche soprattutto inizio del Cinquecento, una wave un po' diversa da parte della Chiesa, mi verrebbe da dire, che è stata quella portata dalla controriforma, perché sono sorte insomma le tesi, le famose tesi di Lutero, si è iniziato a concepire insomma i testi sacri come qualcosa che si poteva interpretare anche in maniera fai da te, e allora lì la Chiesa ha detto no, se tu la interpreti come ti pare la Bibbia, allora sei un eretico. E quindi questo ha portato a insomma un domino di conseguenze, tra le quali anche la reintroduzione dei famosi reati di stregoneria, di occultismo, ma prima questo fenomeno non era così presente. No, ma in generale, e qui stiamo andando su altri argomenti ovviamente, diciamo che la controriforma, come dice la parola, è una reazione, no? Ed è una reazione perché all'improvviso in occidente c'è un concorrente, siccome c'è un concorrente religioso, quel concorrente religioso continua a dire, voi cattolici vi siete fatti, come dire, condizionare da lasciti pagani, da cose che non hanno, non sono puramente cristiane. Infatti anche il culto dei santi, no? Viene considerato così dalla riforma protestante. E quindi la reazione è cercare di spurgare anche sul fronte cattolico, il fronte protestante è infatti ferocemente contrario a tutto questo, è per quello che la stragrande maggioranza, per esempio, delle streghe vengono bruciate dai protestanti, non dai cattolici. E quindi la reazione anche dei cattolici è di cercare il nemico dentro, quindi cercare di togliere tutte quelle cose che fino a un secolo prima, fino al quindicesimo secolo, nessuno aveva mai dubitato essere contrario al cristianesimo. Quindi da questo punto di vista dobbiamo vedere come una reazione ad un'improvvisa concorrenza all'interno dell'Occidente tra due monoteismi che si dicono io sono più monoteista di te. Non so se mi sono spiegato. Assolutamente. Io sono più... la religione è più vera rispetto a te. No, no, è proprio... ho cercato le parole con attenzione, sono più monotista di te nel senso di dire tu non sei puro a sufficienza, non sei cristiano a sufficienza come la fonte originale derivante dall'ebraismo, non sei abbastanza monoteista. Devi essere più monoteista in questo senso. Questo è interessante. Poi anche certamente qual è l'interpretazione corretta, ma il protestantismo nasce proprio dalla base rimuovere gli orpelli che non hanno niente a che fare, dal punto di vista dei protestanti ovviamente, con la religione originale. È un ritorno alle origini nella mente. Le famose indulgenze di Papa Leone X. Ma sono le indulgenze, ma sono tante cose. Come ho detto, il culto... una delle prime cose che fanno i protestanti è distruggere tutti i dipinti nelle chiese. Perché? Perché distruggere i dipinti nelle chiese? Perché quella è idolatria. No? Credere nel santo che ti dà la grazia è mettere qualcuno tra te e Dio. Hai inserito qualcun altro, hai messo Sant'Antonio. Ed è, da un punto di vista protestante, una cosa che si avvicina al paganesimo. Che tu stai adorando... ora poi se lo... il cristianissimo cattolico ti dice una cosa diversa, però cerco di farlo vedere dal punto di vista protestante, no? Stai adorando qualcosa tra te e Dio. Quindi stai diminuendo il monoteismo. Non so se mi sono spiegato. Sì, mi viene da utilizzare un termine del linguaggio dei manga e degli anime. Non è canon. I santi per i protestanti non sono canon. Esatto, esatto, esattamente così. Esattamente così. E quindi il cattolicesimo ovviamente non può negare un millennio e mezzo di storia, altrimenti non sarebbe più cattolicesimo, ma va a cercare degli ambiti in cui può, come dire, rifortificare la morale, cambiare... e quindi va a caccia delle cose che nella vita comune erano, da questo punto di vista, sono adesso considerate non più accettabili. Chiaro, chiarissimo. Beh, io ti ho portato su questo terreno perché secondo me sulla wave razionaria della controriforma di cui abbiamo appena parlato emerge una figura molto importante, un'istituzione molto importante che è quella del Tribunale dell'Inquisizione, a cui molti di noi pensano come, insomma, dei torturatori seriali, che però era... innanzitutto noi sappiamo che nei processi dell'epoca la tortura era all'ordine del giorno, sia nei processi dell'Inquisizione sia in quelli diritto ordinario, e questo è un conto. Però il Tribunale dell'Inquisizione era uno strumento di potere da parte della Chiesa, uno strumento di controllo rispetto a quelli che erano anche gli altri centri di potere, come la nobiltà, ma anche come la stessa corona francese o come la corona spagnola, tanto che poi gli stessi spagnoli diranno, va bene, noi adesso ci facciamo la nostra inquisizione e la controlliamo noi, perché altrimenti se la controlla la Chiesa c'è un'intrusione troppo potente nel potere dello Stato. Sì, adesso non è la mia area di esperienza massima l'inquisizione, però posso dire che è abbastanza malignata. Allora, di nuovo qui si entra nella guerra di religione, perché stiamo parlando adesso, siamo andati un secolo avanti rispetto alla storia di Gilles. Nel quadro delle guerre di religione tra protestanti e cattolici, i protestanti ovviamente dipingono alcune istituzioni cattoliche in modo particolarmente negativo perché stanno facendo la guerra. Quindi una di queste è, ci sono una serie di leggende nere su cattolici, una di queste è anche l'inquisizione che è sicuramente causato molti processi, anche morti, eccetera, come tutti, come hai detto tu, come tutte, la giustizia dell'epoca. Ma ho l'impressione, avendo letto abbastanza su questo argomento, che è probabilmente stato abbastanza ingigantito rispetto alla portata reale del Tribunale d'Inquisizione, sempre per questa rivalità tra cattolici e protestanti. Esatto Marco, io ho voluto parlare con te dell'inquisizione perché secondo me ha giocato un ruolo fondamentale dal punto di vista politico anche nel caso specifico di Gilles de Ré, che è un po' il protagonista della nostra puntata, perché io credo, ma questa rimane una mia convinzione personale, che lui abbia addestato insomma le attenzioni della politica, della chiesa e quindi il conseguente processo, soltanto nel momento in cui ha assediato il famoso castello di San Etian, che era originariamente proprietà della sua famiglia, ma che lui poi era stato costretto a vendere per i debiti di cui parlavamo prima. Però ecco, vorrei ritornare alla questione storica riguardante Gilles de Ré, per capire se lui abbia avuto effettivamente un ruolo importante all'interno della risoluzione della guerra dei cent'anni, se lui effettivamente sia riuscito nell'obiettivo che si era dato, cioè quello di proteggere Giovanna d'Arco, la risposta, vi faccio uno spoiler, è no perché comunque Giovanna d'Arco fu bruciata a rogo, però ecco, andiamo verso la risoluzione di quel conflitto di dopo tantissimi anni, quindi come, che ruolo ha giocato attivamente questo personaggio? Vabbè, è ovviamente stato uno dei comandanti, però diciamo in una guerra che dura più di cento anni ovviamente nessuno può dire di aver avuto un ruolo fondamentale in quella guerra, neanche le figure molto importanti dei tantissimi re che si sono avvicendati sul trono francese inglese. Questa era una guerra che è nata in sostanza per una questione di proprietà della terra, perché gli inglesi avevano delle enormi proprietà terriere in Francia, per le quali in teoria erano dei vassalli del re di Francia. Questa è una cosa che di nuovo a noi ci manda fuori di testa, perché siamo abituati ad avere dei confini in cui al di là di quel confine c'è uno stato, al di qua c'è un altro, ma non è così che funzionavano gli stati medievali. Quello che importava era la proprietà, quindi se lo stato, diciamo se il re d'Inghilterra per una serie di eredità ha in proprietà la Guascogna, per intenderci il sud ovest della Francia, quello è di sua proprietà, però formalmente se c'è una legge si applica la legge del re di Francia. Ovviamente il re d'Inghilterra se ne infischia del re di Francia perché è troppo potente, il re di Francia non ha il potere di dirgli cosa fare. Quindi questa è stata l'origine della guerra e direi che nessuno in quest'epoca ha avuto un ruolo fondamentale, se non proprio forse la pulsella d'Orléans, quindi Giovanna d'Arco, nel catalizzare la resistenza francese. Però poi alla fine la guerra la vincono i cannoni e questa è un'altra cosa che sembra strana, perché noi siamo abituati a pensare alla guerra dei cent'anni come una cosa medievale e inizia come una guerra medievale, ma l'ultima battaglia viene decisa dai cannoni. Quindi questo dà un'idea, si chiama la battaglia di Castiglion, e dà un'idea dell'evoluzione anche della guerra in questi cento anni. Alla fine di questa guerra gli inglesi rimarrà solo Calais, che continueranno a possedere per altri cento anni, e l'Inghilterra sprofonderà immediatamente dopo nella guerra delle due rose, insomma, quindi una guerra civile, per cui sarà dilaniata per molti decenni. Allo stesso tempo la Francia invece alla fine della guerra si è rafforzata e diventata un vero stato unitario, che non era all'inizio della guerra, era una collezione di feudi, e uno stato così forte che nel giro di pochi decenni interverrà in Italia, e questo ci interessa da un punto di vista della nostra storia, perché poi uno stato francese rafforzato, unitario, diventa praticamente una potenza in confronto alla quale i piccoli stati italiani non possono nulla. Quindi quando la Francia poi a fine Quattrocento invade l'Italia, con i suoi cannoni e il suo esercito, gli stati italiani cadono uno dopo l'altro come dei birilli. Quindi questo per dire l'importanza di questo conflitto per tutta l'Europa. Assolutamente, anche dei suoi protagonisti. Io tornerei un attimo dal nostro Giacomo Giacquinto per sapere cosa ne pensa e per chiedergli di più riguardo la filmografia intorno al personaggio di Gilderet. Ah, bello questo! Eh sì, molto interessante, perché intorno a Gilderet in realtà poi si dipana tutta quella filmografia che riprende la fiaba, in questo caso quella di Barba Blu. Però molti potrebbero pensare, vabbè, la figura di Barba Blu, essendo un'immagine o comunque nell'immaginario collettivo così violenta, addirittura assassino di diverse mogli, nascondeva nel castello, uno pensa subito agli horror. E invece no. E soprattutto abbiamo anche i registi premi Oscar che si sono interessati di questo. Ma andiamo con ordine, perché il primo grande film di cui vi voglio parlare è un cortometraggio, è Barba Blu del 1901. Non lo citerei se la regia non fosse di Georges Méliès. Méliès, fantastico! Quindi parliamo, caro mio Marco, del padre del montaggio, quindi di colui uno delle figure più importanti della storia del cinema. Assolutamente, assolutamente. È straordinario! Come era quel film che era sulla sua storia, che è uscito qualche anno fa? Allora, per ciò che riguarda la filmografia dedicata agli omaggi a Méliès, beh, in realtà ce ne sono diversi. Per esempio, Hugo Cabret del 2011 di Scorsese. Esatto, quello a cui pensavo io. Esatto, che è uno dei più grandi film legati a questo personaggio straordinario, in quel caso reso un po' fantasy, ma si sa, la mano di Scorsese si sente sempre. Scusa, ti ho portato via da Barba Blu. No, ma figura di io, mi metti a parlare di cinema, sto qui 10-15 ore, poi non mi fermo più. Poi abbiamo, e poi, come vi dicevo prima, non solo l'horror, ma la commedia. Per esempio, abbiamo Monsieur Verdot, dedicata proprio alla figura di Gilles de Ré del 1947. Beh, indovinate chi era la regia? Charlie Chaplin. Quindi una delle più grandi figure dello storytelling cinematografico, capace di raccontare e mettere a nudo certi personaggi, e se non siete d'accordo con me, vi consiglio di rivedere il grande dittatore. Poi abbiamo Totò, anche se è interessato a tutto questo, con le sei mogli di Barba Blu del 50, in quel caso per la regia di Bragaglia, quindi un regista di un certo stampo che decide di prendere Totò a cavallo di un momento in cui Totò sta cercando anche di modificare la visione che ha dato di sé al mondo del cinema. Quindi parliamo anche di quel periodo dell'avvicinamento di Totò ai film di Pasolini, per esempio. E poi uno su tutti, il 1993, un anno più tardi, sfonderà la notte degli Oscar, la regia è di Jane Campion, che probabilmente state risentendo parecchio in questo periodo dopo l'uscita del Potere del Cane con Benedict Cumberbatch, e il film è Lezioni di Piano, del 1993, film straordinario, ispirato proprio alla favola di Barba Blu, senza considerare che il protagonista di questo film, che viene ambientato in Nuova Zelanda, ha discendenze nobili, quindi riprende proprio la figura di Gilderet. C'è un continuo rimando all'occultismo nel film, però un occultismo ambiguo, perché non avendo certezza della figura di Gilderet, oltre agli scritti che ci sono arrivati alle lettere, e soprattutto considerando l'ambiguità del processo di cui vi parlavo prima, con lettere mai arrivate ai giudici, inviate, non si sa se sono state spedite, sicuramente redatte, c'entra in pieno quello che è stato il carattere storico di questa figura. Lo dico solamente perché l'hai nominato prima Michele, anime e manga, e a questo punto non posso che nominare uno dei miei preferiti nella cultura di massa, ovvero la light novel Fate Zero di Genuro Bucci, qualcuno magari la conosce per i personaggi di Archer, di Gilgamesh, c'è proprio Gilderet che diventa spirito eroico all'interno di questo anime e barra manga, c'è questa guerra per il Santo Graal e diciamo i protagonisti chiamano loro cospetto personaggi storici in qualità di combattenti. In questo caso Gilderet serve come caster, ovvero come mago, come stregone. Bellissimo Giacomo, un'influenza proprio a 360 gradi sulla cultura popolare. Esatto, se consideri che Fate Zero è comunque una produzione nipponica, basta pensare come questa figura abbia ispirato anche diverse culture. Benissimo, benissimo, grazie Giacomo. Grazie. A questo punto io andrei da Marco per una domanda finale. Abbiamo visto come sì, il processo a Gilderet sia stato piuttosto nebuloso, almeno quello che è arrivato fino a noi, però una cosa che c'è stata sicuramente è stata la confessione, come anche nel caso di Giovanna d'Arco, che però alla fine nonostante tutto fu bruciata allo stesso sul rogo perché si rifiutava di vestire panni da donna, continuava a vestirsi da uomo e questa fu considerata un'eresia. Però la mia domanda per Marco è, tu ci hai parlato tanto della guerra dei cent'anni, di come siano importanti le collettività nei conflitti che stagnano la storia, ma quanto sono importanti secondo te gli individui, in questo caso come Giovanna d'Arco? Hanno un peso che si può rilevare oppure se ne potrebbe fare a meno? E questa è una domanda da un miliardo perché diciamo che tendenzialmente ci sono due grandi scuole di pensiero, quella dei grandi uomini e grandi donne che decidono la storia e quella delle forze sociali, in cui sono le forze dell'economia, della società, della cultura che plasmano la storia. Io direi, dal mio punto di vista, sono tendenzialmente un forze sociali moderato, nel senso, credo che la storia la facciano soprattutto le tendenze di fondo ed è più magari l'economia che un singolo personaggio. Ci sono però condizioni specifiche e incroci astrali particolari in cui effettivamente la decisione di una singola persona o l'impatto di una singola persona per un certo periodo può davvero cambiare la storia. Questo succede, accade, ma è un po' come nuotare contro la corrente, se mi posso spiegare. La corrente è la grande corrente storica. È molto più facile per gli esseri umani nuotare seguendo la corrente che contro la corrente, cercando di dominare la storia. Ti ringrazio Marco, questa è una bellissima risposta. A questo punto io ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino a questo momento. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro gruppo Telegram per interagire con me, con Giacomo e anche con Marco se avrà voglia di iscriversi e ringrazio a questo punto sia Marco Cappelli che Giacomo Giacquinto per essere stati qui con noi. Grazie a voi. No, grazie, è stato un piacere. Anche per noi Marco, speriamo di riaverti presto. Ma io do appuntamento a tutti alla prossima settimana e nel frattempo vi ricordo di non spegnere la luce.